Di Marguerite Ursenar, Memorie di Adriano, voce di Lorenzo Pieri. La mia indulgente suocera, che da anni lo seguiva al campo in qualità di intendente. Celso, Palma, Nigrino, i miei vecchi amici, sedevano ancora nel consiglio e dominavano lo stato maggiore. Tutti costoro si accomodarono alla meglio nel palazzo, in attesa che la campagna avesse inizio, e ripresero con rinnovato vigore gli intrighi di corte. Ciascuno faceva il suo gioco, in attesa che la guerra gettasse i suoi dadi. L'esercito mosse quasi subito verso il nord, e io vidi allontanarsi con esso la fitta calca di alti funzionari, di ambiziosi e di inutili. L'imperatore e il suo seguito fecero a Commagena una sosta di pochi giorni, in occasione di feste già trionfali. I piccoli re d'Oriente, riuniti a Satala, fecero a gara per protestargli una lealtà sulla quale, al posto di Traiano, non avrei fatto troppo affidamento per l'avvenire. L'usio quieto, il mio rivale più pericoloso, alla testa degli avamposti, nel corso di una vasta incursione militare, occupò le sponde del lago di Van. La parte settentrionale della Mesopotamia, evacuata dai parti, fu annessa senza difficoltà. Abgar, il re d'Osroene, fece atto di sottomissione a Edessa. L'imperatore tornò ad Antiochia ad occupare i suoi quartieri d'inverno, rinviando a primavera l'invasione vera e propria dell'impero Partico, ma già deciso a non accettare alcuna proposta di pace. Tutto si era svolto secondo i suoi piani. La gioia di tuffarsi finalmente in quell'avventura, differita per tanto tempo, restituiva quasi una nuova giovinezza a quell'uomo di 64 anni. Le mie previsioni però restavano cupe. L'elemento ebreo e quello arabo erano sempre più ostili alla guerra. I grandi proprietari delle province si irritavano di dover indennizzare le spese provocate dal passaggio delle truppe. Le città mal tolleravano l'imposizione di nuovi tributi. Sin dal ritorno dell'imperatore si verificò una prima sciagura, un preludio di tutte le altre. Un terremoto, nel cuore d'una notte di dicembre, distrusse in pochi istanti quasi una metà di Antiochia. Traiano, contuso per la caduta d'Untrave, continuò eroicamente ad occuparsi dei feriti, e tra le persone più intime attorno a lui vi furono dei morti. La plebaglia siriana subito andò a caccia dei responsabili del sinistro. L'imperatore, derogando per una volta dai suoi principi di tolleranza, commise l'errore di lasciar massacrare un gruppo di cristiani. Personalmente, ho pochissima simpatia verso quella setta, ma lo spettacolo di quei vecchi, frustati con le verghe, e dei bambini torturati, contribuì all'innasprimento degli spiriti, e rese ancor più tetro quel sinistro inverno. Mancava il danaro per sanare immediatamente gli effetti della sciagura. La notte, si accampavano sulle piazze migliaia di persone senza tetto. I miei giri di spezione mi rivelavano l'esistenza d'un sordo malcontento, d'un odio segreto e insospettato dagli alti dignitari che ingombravano il palazzo. E tra quelle rovine, l'imperatore proseguiva i preparativi per la campagna imminente. Fu adoperata una foresta intera, per la costruzione di ponti mobili e di pontoni per traversare il Tigri. L'imperatore aveva ricevuto con gioia tutta una serie di titoli nuovi decretati dal Senato, non vedeva l'ora di finirla con l'Oriente, per tornare a Roma da trionfatore. Il minimo indugio scatenava in lui i furori che lo squassavano come attacchi. L'uomo che percorreva a gran passi con impazienza le vaste sale di quel palazzo, già costruito dai seleucidi, io stesso l'avevo decorato in suo onore di iscrizioni laudatorie e di panoplie daciche, non era più quello che mi aveva accolto al campo di colonia quasi vent'anni prima. Persino le sue qualità erano invecchiate. Quella giovialità un po' goffa, che in altri tempi mascherava un'autentica bontà, ormai non era più che un vezzo triviale. La sua fermezza si era mutata in ostinazione, le sue attitudini per le decisioni immediate e pratiche, in un totale rifiuto di pensare. Il tenero rispetto verso l'imperatrice e l'affetto burbero che dimostrava alla nipote Matidia, si erano trasformati in una sudditanza senile verso quelle donne, ai consigli delle quali, tuttavia, opponeva sempre maggiore resistenza. Le sue crisi di fegato allarmavano il suo medico, Crito, ma egli non se ne dava pensiero. I suoi piaceri avevano sempre mancato d'eleganza, con l'età il loro livello era sceso ancor più in basso. Poco importava che l'imperatore, compiuta la sua giornata, si abbandonasse a Bagordi da caserma, in compagnia di giovinetti nei quali trovava qualche attrattiva o avvenenza, ma era piuttosto grave che tollerasse male il vino di cui abusava e che quella corte di subalterni sempre più mediocri, scelti e manovrati dall'oschi liberti, fosse in condizione di assistere a tutte le mie conversazioni con lui e di riferirle ai miei avversari. Di giorno vedevo l'imperatore soltanto alle riunioni di stato maggiore, interamente dedicate al perfezionamento dei piani, durante le quali non si dava mai l'occasione di esprimere apertamente un'opinione. In qualsiasi altro momento, egli evitava i colloqui in privato, il vino suggeriva a quest'uomo di scarsa finezza un arsenale di astuzie grossolane. Da un pezzo s'erano dileguate le antiche suscettibilità. Egli insisteva per associarmi ai suoi piaceri. Il chiasso, le risate scomposte, le facezie più scipite dei giovincelli, erano sempre ben accolte. Quasi fossero altrettanti modi per farmi intendere che non era il momento per le cose serie. Spiava l'istante in cui un bicchiere di più mi avrebbe fatto sragionare. Tutto mi girava attorno, in quella sala dove le teste dei buoi selvatici dei trofei barbari pareva mi ridessero in viso. Le giare si succedevano. Qua e là zampillavano un canto avvinazzato o il riso lascivo e insolente d'un paggio. L'imperatore, posando sul tavolo una mano sempre più malferma, murato in una ebbrezza forse in parte simulata, sperduto, lontano da tutto, sulle strade dell'Asia, sprofondava gravemente nelle sue visioni. Disgraziatamente erano visioni piene di bellezza, le stesse che in altri tempi mi avevano fatto pensare di abbandonare qualsiasi cosa per seguire al di là del Caucaso le vie settentrionali dell'Asia. Quell'incantesimo al quale l'imperatore ormai vecchio cedeva in uno stato di sonnambulismo, Alessandro l'aveva subito prima di lui. Egli aveva realizzato pressa poco gli stessi sogni e ne era morto a trent'anni. Ma l'insidia peggiore di quei piani grandiosi consisteva appunto nella loro ragionevolezza. Come sempre abbondavano le ragioni pratiche per giustificare l'assurdo, per indurre all'impossibile. Da secoli ci preoccupava il problema dell'Oriente, sembrava naturale risolverlo una volta per tutte. Il nostro scambio di derrate con l'India e con il misterioso paese della seta erano interamente alla mercè dei mercanti ebrei e degli esportatori arabi, i quali godevano la franchigia nei porti e sulle strade dei parti. Una volta annientato l'impero vasto e fluttuante dei cavalieri arsacidi, avremmo avuto contatti diretti con quei ricchi confini del mondo. L'Asia, unificata finalmente, sarebbe stata per Roma nient'altro che una provincia di più. Il porto di Alessandria ad Egitto era l'unico dei nostri sbocchi verso l'India che non dipendesse dalla compiacenza dei parti. Anche lì ci trovavamo continuamente in urto con le esigenze e le rivolte delle comunità ebraiche. Il successo della spedizione di Traiano ci avrebbe consentito di ignorare quella città insicura, ma tutte queste ragioni non mi avevano persuaso mai del tutto. Mi avrebbe soddisfatto di più qualche abile trattato commerciale e intravedevo già la possibilità di ridurre la funzione di Alessandria, creando una seconda metropoli greca nelle vicinanze del Mar Rosso, ciò che feci in seguito quando fondai Antinopoli. L'Asia, quel mondo tanto complesso, cominciava ormai a conoscerlo. I piani semplici di sterminio totale, che erano riusciti in Dacia, non erano attuabili in questo paese brulicante di una vita più molteplice, dalle radici più profonde. Da essa dipendeva inoltre la ricchezza del mondo. Al di là delle eufrate, cominciava per noi il paese dei rischi e dei miraggi, le sabbie ove si affonda, le strade che finiscono senza metter capo in nessun luogo. Il minimo rovescio avrebbe prodotto come risultato una scossa al nostro prestigio, tale che qualsiasi catastrofe avrebbe potuto derivarne. Non si trattava soltanto di vincere, ma di vincere sempre, e in questa impresa si sarebbero logorate le nostre forze. Già l'avevamo tentata una volta, pensavo con orrore alla testa di Crasso, lanciata di mano in mano come una palla durante una rappresentazione delle baccanti di Euripide, data da un re barbaro con una infarinatura di ellenismo, la sera ad una vittoria su di noi. Traiano sognava di vendicare quella antica sconfitta, io soprattutto di far sì che non si ripetesse. Prevedevo l'avvenire con sufficiente esattezza. Non è impossibile, in fin dei conti, quando si conoscono in gran parte gli elementi del presente. Prevedevo qualche vittoria inutile che avrebbe attirato troppo avanti le nostre armate, pericolosamente sottratte ad altre frontiere. L'imperatore, in punto di morte, si sarebbe coperto di gloria, e su di noi che dovevamo vivere, vedevo pesare il compito di risolvere tutti i problemi e rimediare a tutti i mali.